Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dalla terza, dal titolo 1492 Diario del Primo Viaggio, di Antonio Musarra, che abbiamo il grandissimo piacere di avere nostro ospite e al quale, come d'abitudine, io lascio subito la parola perché ci deve raccontare tutto di questo primo viaggio. Quindi a te la parola Antonio e grazie. Bene, grazie a te Maurizio, grazie a tutti gli amici di Italia Medievale per questo invito, che come sempre è un invito graditissimo. Per presentare appunto questo libro, che già dal titolo affronta una materia, un personaggio, se vogliamo, iconico come Cristoforo Colombo, lasciatemi fare una premessa, no? Cosa c'è da dire di nuovo su questo viaggio? Cosa c'è da dire di nuovo su Cristoforo Colombo? Beh, in realtà c'è da dire molto e questo è proprio il motivo per cui ho voluto dedicare queste pagine proprio al viaggio colombiano, questo viaggio, questo primo viaggio, per due motivi di fondo. Innanzitutto documenti nuovi che, come sanno tutti i medievisti e tutti coloro che seguono l'Italia Medievale, insomma sono la base, il pane quotidiano della nostra ricerca. Recentemente sono venuti alla luce alcuni documenti negli archivi iberici che hanno permesso, per così dire, di delineare meglio il contesto economico e finanziario della preparazione del viaggio. Parlo della tassazione imposta a centri come Quelva, alla stessa Palos e a, in generale, a quella che si chiama Niebla, l'Andalusia più portoghese da cui appunto Colombo partì. Questa è già una notizia che ci permette di inserire questo viaggio in un contesto assai più ampio, di comprendere quali fossero le ragioni, le motivazioni, le attese dei cosiddetti re cattolici. C'è però un secondo motivo di ordine completamente diverso. Negli ultimi tempi la figura di Colombo è stata, per così dire, presa di mira, a partire dal 2019, dal 2020, proprio contemporanea con la pandemia, abbiamo ripetutamente visto ogni 12 ottobre scene peculiari, l'abbattimento delle statue del navigatore, l'imbrattamento delle statue con vernice rossa. Colombo è diventato un simbolo, un simbolo della violenza, della brutalità dell'uomo bianco, della brutalità colonizzatrice dell'uomo bianco. Per la verità il giudizio, anche storiografico, devo dire, sulla figura di Colombo è mutato da qualche tempo. Già attorno al centenario colombiano del 1992, alle colombiari del 1992, si cominciava a fornire una narrazione diversa, ma già un decennio prima Todorov, grande storico, aveva parlato non tanto e non più di scoperta dell'America, ma di conquista dell'America, ribaltando quella patina di eroicità che ammantava la figura del navigatore. Ebbene, questo, questa tendenza, questo elemento, questa tendenza storiografica ha preso banco, sino a trasfigurare, in un certo qual modo, a riequilibrare, perché no, giustamente, quella che era la figura di Colombo, ma anche a trasfigurarne l'operato, sì che il viaggio si è semplicemente perso di vista. Abbiamo cominciato a dimenticare che Colombo era un uomo del suo tempo, che vive in un periodo storico in cui la violenza è all'ordine del giorno, che vive in un periodo storico in cui la religiosità è frammista alla violenza. Questo non significa giustificare, ma come diceva Bloch, lo storico deve innanzitutto comprendere. E allora il viaggio si è progressivamente perso di vista. Io sfido i nostri ascoltatori ad andare a recuperare qualsiasi biografia colombiana abbiano nelle loro librerie, nelle loro biblioteche, si accorgeranno che della grande narrazione riequilibrata, giustamente riequilibrata, circolante attorno al navigatore, ci si dimentica un particolare, cioè di descrivere, di narrare quel che avvenne esattamente tra la partenza da Palos, quel 3 agosto del 1492, e l'arrivo e l'avvistamento della Terra il 12 ottobre. Sì, si parla della preparazione, si continua a parlare di tre caravelle, sappiamo bene che erano due accompagnate da una grande nave commerciale, si accenna ai problemi del finanziamento, ma non si considera in alcun modo quel che avvenne durante la navigazione. Questo libro è centrato esattamente su quei giorni, su quegli aspetti, e lo fa attraverso una fonte di straordinaria importanza, che è il giornale di bordo di Cristoforo Colombo. Una fonte estremamente complessa, una fonte estremamente delicata, perché? Perché non ci è rimasta in originale, è pubblicata molte volte, è tradotta anche malamente, ahimè, in molte versioni, in molte edizioni. È una fonte da trattare, come dico sempre ai miei studenti, con piglio da storico, cioè capendo esattamente che tipo di materiale si ha innanzi, non la versione originale vergata da Colombo a bordo giorno dopo giorno, notte dopo giorno, notte dopo notte, ma una versione già prontata da Cristoforo Colombo per la pubblicazione, probabilmente dunque edulcorata di molti particolari, per così dire spiacevoli, consegnata ai re cattolici, in particolar modo alla regina Isabella, che ne fece fare una copia, restituendo probabilmente l'originale a Colombo, l'originale perduto. Questa copia passa di mano in mano, probabilmente rimanendo negli archivi della Corona, e sino a che la Martolomè della Scadas se la ritrova tra le mani per redigere la sua storia delle Indie, grande vescovo dominicano, vescovo di Chiapas, grande difensore, tra virgolette, dei nativi, che la utilizza appunto come fonte. È conosciuta anche dal figlio di Colombo, Fernando Colombo, che lo ricordo perché è notizia poco nota, era un grande, grande umanista, grande collezionista anche, è l'artefice di quella che possiamo considerare una delle più grandi biblioteche iberiche di tutto il Cinquecento, pare che raggiungesse i 15.000 volumi con contatti con i maggiori intellettuali dell'epoca, come Erasmo da Rotterdam, e vi dicendo, anche egli conosce una copia. Un sunto del diario è fornito da Bartolomè della Scasa, se in un piccolo codicetto di 76 pagine, conservato sempre negli archivi berici, venuto alla luce a fine Settecento e pubblicato solamente a inizio Ottocento, che è il diario attuale. Allora è una fonte peculiare, una fonte complessa, che va interpretata, vanno distinte le varie voci, le voci di Colombo, dei protagonisti, ma anche le voci di coloro che lo ricopiarono, se vogliamo. È un lavoro complesso, ma è un lavoro che ho avuto il piacere di compiere minuziosamente, posso dire quasi riga dopo riga, per preparare questo volume. Allora, 1492, diario del primo viaggio, è una mia personale interpretazione del volume di Colombo, con lo scopo specifico di comprendere che cosa accadde nell'ambito di quei 36, Colombo dirà 33, per ovvie ragioni religiose, giorni di navigazione. Una decina di capitoli, dieci capitoli, con una ampia, se vogliamo, premessa necessaria per calare il lettore in quella che era la pratica della navigazione dell'epoca. Che cosa sia una caravella, che cosa sia una navis, sono elementi fondamentali. Oggi siamo piuttosto informati su questi tipi nautici, ma anche una preparazione che collochi il viaggio nel proprio contesto, nel contesto di quell'atlantico mediterraneo, per usare l'espressione di uno storico famoso, che soprattutto i portoghesi da qualche tempo andavano esplorando, seguiti dai castigliani. Ricordo che è ancora in corso, all'epoca del viaggio di Colombo, la conquista delle ultime isole delle Canarie, che si sta trascinando dal principio del Quattrocento. Una premessa che si preoccupa di indagare la genesi del progetto, uno dei temi storiografici legati a Colombo, che hanno avuto più fortuna in passato, penso alle grandi opere del senatore Taviani da questo punto di vista, o di Jacques Kers, per dire, è una premessa che ci trasporta direttamente nella niebla, in questa zona, a Palos, in questa zona geografica, e che segue gli eventi immediatamente precedenti, la conquista di Granada, 2 gennaio del 1492, l'espulsione degli ebrei, il 31 marzo, le capitolazioni di Santa Fe, il 17 di aprile, la partenza di Colombo, l'arrivo di Colombo nella cittadina, il tentativo di requisire le due caravelle, per una questione giudiziaria, non vi annuncio nulla, potrete leggerla nel volume, la ricerca degli uomini, grazie ai fratelli Pinson, le liste, i nomi degli uomini, che sono stati con fatica ricostruiti, grazie ad alcuni ruoli di equipaggio, alcuni pagamenti, appunto, ritrovati negli archivi spagnoli, e che trovate poi nell'appendice, in fondo al volume, potremmo dire gli uomini che fecero l'impresa, parafrasando un titolo famoso. E poi, dopo questi capitoli introduttivi, finalmente la partenza. Partimmo venerdì 3 agosto dell'anno 1492 dalla barra di Saltès, alle 8 di mattina. Procedemmo con una forte brezza di mare fino al tramonto, verso sud, per 60 miglia, ossia 15 leghe. Poi verso sud-ovest, sud-quarta di sud-ovest, che era la rotta per le Canarie. Ecco, già da questo abbrivio possiamo trarre diversi elementi, innanzitutto il linguaggio di Colombo, sud-ovest, sud-quarta di sud-ovest. Che cosa vogliono dire questi elementi? Come interpretarli? Come leggerli? Cerco di spiegarlo in modo che il lettore possa orientarsi in quella che era la terminologia di allora, che non è poi così dissimile, ecco, nella terminologia di adesso. Alcune espressioni che ritroviamo nel diario di Colombo, nel giornale di Bordo meglio, sono espressioni ancora oggi d'uso quotidiano per chi va per male. Fare il punto, echar è il punto, cercare di individuare il punto esatto in cui si colloca il bastimento, in questo vasto mare blu che spesso spaventa, che spaventa naturalmente anche i marinai di Colombo. E poi la partenza per le Canarie. Perché le Canarie? Come mai? Cosa portava Colombo a partire proprio dalle Canarie? Probabilmente la conoscenza dei famosi alisei. Allora, che cosa sono gli alisei? Com'è possibile che Colombo li conoscesse? Sono tutte domande a cui cerco di dare risposta per cominciare a seguire questa navigazione. Una navigazione che, non voglio svelare troppo, che si preannuncia però estremamente interessante sia per i pericoli che immediatamente, all'inizio, proprio a ridosso della partenza. Si palesano la rottura di un timone, ripetuta. Peraltro il sospetto di un sabotaggio, forse opera di qualcuno, degli uomini che erano a bordo e che non volevano partire. Questa è solo una delle tante ipotesi. Scandagliando le personalità presenti a bordo, è presente anche qualche pendaglio da forca, misura piuttosto limitata, ma conosciamo nomi e cognomi. La paura di incappare in alcune caravelle portoghesi che perlustrano l'area canariota e che probabilmente hanno timore che la spedizione di Colombo, che era forse la cosa più logica da pensare, cercasse di compiere l'impresa, quella di circunnavigare il continente africano, che è la grande ambizione dei portoghesi e che avrà luogo di via poco. Peraltro, sappiamo tutti le vicende di Bartolomeo Adias, che peraltro incontra Colombo al ritorno del primo viaggio, e successivamente la strada aperta da Vasco da Gama. Quello era l'obiettivo portoghese. Queste caravelle portoghesi cercano di intercettare la flottiglia colombiana che invece prende il largo verso Ponente, con l'obiettivo di raggiungere l'Oriente. Buscar e Levante por e Poniente. Dopo aver sostituito le dele, per cogliere meglio le caratteristiche degli Alisei, Colombo parte verso il Ponente. Ed ecco che seguono alcuni capitoli che ci descrivono quanto accade esattamente nell'Atlantico, attraverso l'oceano. I sotterfugi utilizzati da Colombo per evitare che la ciurma si impensierisse eccessivamente. Colombo stesso dichiara di palesare ai propri uomini un numero di miglia percorse inferiore al reale. Questo lo fa ben 26 volte, tutti i giorni dal 9 settembre al 14 settembre, poi dal 16 al 19, poi dal 24 sino al 7 ottobre, poi dal 9 ottobre fino alla vigilia dell'avvistamento della Terra. Nell'ambito di questo percorso succedono molte cose. Via l'incontro con il Mar dei Sargassi, la descrizione di questa distesa di erbe che fa pensare immediatamente alla vicinanza di isole. È proprio le isole che Colombo cerca, quelle isole che i globi, i mappamondi, redatti nello stesso periodo in cui egli vive, rappresentavano nel mezzo dell'oceano e che corrispondevano alle descrizioni antiche. Marco Polo ne aveva contate circa 7000 circostanti cipango. Tra le coste iberiche e quelle del Giappone si credeva esistesse la mitica isola di Antilia, o l'isola delle sette città, ed è curioso constatare come, seguendo proprio le indicazioni della rotta colombiana, Nord, Sud, Quarta di Sud Ovest e via dicendo, a un certo punto Colombo compie una certa involuzione, come se fosse alla ricerca di queste isole che egli si aspettava evidentemente di trovare. È una navigazione che prosegue guardando le stelle, naturalmente. Ci sono alcune indicazioni astronomiche di grande interesse che Colombo riporta nel diario. È una navigazione che prosegue in maniera spasmodica nella ricerca di segnali che possano in qualche modo far comprendere che si sia vicini finalmente alla Terra. Ed ecco allora l'osservazione delle acque, della salinità dell'acqua, ad esempio. L'osservazione della presenza di uccelli nel cielo, di rametti che galleggiano e che raggiungono le due caravelle e la grande nave che rimane costantemente indietro perché è più lenta, è più pesante, non è agile come il tipo della caravella. E poi vi sono le crisi. Le crisi che Colombo descrive, soprattutto verso la fine del viaggio stesso, che egli naturalmente non conosce, e che derivano soprattutto dall'osservazione dei venti. I marinai notano che i venti ispirano sempre nella stessa direzione. Ci sono dei momenti di bonaccia che spaventano enormemente la ciurma. Perché? Perché il timore è quello di non trovare venti adatti per poter ritornare a casa. Ecco cosa ci dice tra il 22 e il 23 settembre. Poiché il mare era calmo e liscio, la gente mormorava, dicendo che poiché lì non vi era mai mare grosso, così non vi sarebbero stati neppure venti per ritornare in Spagna. In seguito però il mare si gonfiò, senza che vi fosse vento, cosa che gli sbigottiva, e per questo così scrive l'ammiraglio. La terza persona è il sunto di Bartolomé della Scasas. Parole dell'ammiraglio. Molto utile mi fu il mare grosso. Una cosa simile non si verificò se non al tempo dei giudei, quando quelli dell'Egitto mossero contro Mosè, che li liberava dalla schiavitù. E qui emerge tutta la religiosità colombiana. I suoi riferimenti biblici, quella che è nella sua cultura di fondo, che fa continuamente riferimento. E poi emerge anche l'Andalusia, emerge Guadalquivir, emerge Siviglia. Ecco cosa scrive il 18 settembre. Navigò giorno e notte, e avranno percorso più di 55 leghe, ma ne annotò solo 48. In tutti questi giorni il mare fu in gran bonaccia, come nel fiume di Siviglia. In questo giorno Martina Alonso, con la pinta, che prendeva bene il vento, non aspettò, perché disse all'ammiraglio dalla sua caravella che aveva visto una gran moltitudine di uccelli volare verso Ponente e che sperava di scorgere terra durante quella notte. Perciò correva tanto. A settentrione apparve una gran foschia, segno che si è vicino alla terra. I problemi, rapporti con Martina Alonso, cresceranno nel corso del tempo, proseguiranno con le polemiche successive, benché appunto il comandante della pinta muoia non appena ritornato in patria, ma si avvertono all'interno, nelle pagine del diario, che appunto prosegue anche oltre la navigazione. Io ho pensato di fornire al mio lettore anche un quadro di quello che è, di quella che fu l'esplorazione colombiana una volta arrivati a visionare terra. Naturalmente ho dedicato una parte cospicua all'incontro con l'altra, che attualmente, devo dire, è comunque il tema maggiormente studiato, quello che ha appassionato più orvi storici, vorrei dire anche di antropologi. Nel bene, nel male, certo, emerge l'ottica dello sfruttamento, emerge l'altezzosità dell'uomo bianco che guarda queste popolazioni, ritenendole inferiori, paragonandole a popolazioni conosciute. Colombo le paragona a quelle delle Canarie, cui assomigliano in tutto e per tutto il tentativo dunque di addomesticare e ispanizzare, che sarà tentativo progressivo, i luoghi incontrati. Ma ho voluto profondire con uno studio che mi ha molto affassionato, devo dire, anche l'esplorazione posteriore, sulla quale c'è un vero e proprio giallo. Io do una mia soluzione, però non pretendo sia quella che risponda alla verità storica, perché noi sappiamo che Colombo visitò cinque isole nell'arcipelago delle Bahamas, che è formato da migliaia di isole, isolotti, scogli e quant'altro, ma tuttavia non sappiamo quali. A lungo si è ritenuto che la famosa San Salvador, l'isola da lui battezzata, fosse l'isola di Wotling, ma ho scoperto che questa interpretazione è un'interpretazione non solo tarda, ma anche contrastata. Altre isole si sono contese tra 7 e 800, il primato. Questo è stato molto interessante pertanto analizzare gli scritti di quegli autori che ne hanno parlato sin dal 600, devo dire, ma che poi soprattutto nel XIX secolo hanno tentato di ripercorrere la rotta colombiana, cercando di comprendere dalle descrizioni del diario di bordo, dalle leghe dichiarate da Colombo, quali fossero le cinque isole attraversate. Io ho dato la mia soluzione in alcune mappe che il lettore può trovare all'interno del volume, sperando di essere stato piuttosto convincente, per poi seguire la navigazione di Colombo a Cuba, per poi seguire la navigazione di Colombo in ispaniola, pubblica Santo Domingo se vogliamo, e dedicare però altrettanto spazio, e veramente concludo perché ho rubato troppo tempo, a quello che è il viaggio di ritorno, che attenzione non è meno interessante per certi versi del viaggio di andata, interessante e avventuroso, se vogliamo, già che Colombo attraversa, deve attraversare, costretto ad attraversare, lo ricordo, solamente con le due caradelle, già che la Santa Maria fa naufragio la notte di Natale, e la descrizione del nafragio è un brano veramente straordinario, bene, Colombo deve attraversare ben due tempeste e ci descrive i suoi sentimenti, ci descrive le sue paure nell'ambito di questi eventi, di nuovo emerge la sua religiosità, il far voto, il recarsi al primo santuario in pellegrinaggio, la memoria dei figli che gli ha timore di non riabbracciare più, perendo all'interno della tempesta. Insomma, questi elementi si vanno a sommare ad altri piuttosto inediti che riguardano per lo più il modo di condurre le caradelle stesse, l'uso di vele particolari, la citazione del pappafico, ad esempio, elementi poco più tecnici che ho cercato di spiegare con un linguaggio piano, in modo che forse siano comprensibili a tutti, che ci permettono di comprendere quali fossero effettivamente le conoscenze nautiche in questo scorcio di secolo, conoscenze che si palesano in situazioni di pericolo come quelle che Colombo ha attraversato e che gli permisero evidentemente di scampare a queste due tremende tempeste. Il volume dunque si conclude con il suo ritorno, finalmente il suo ritorno a Palos, che però è un grande inizio, come sappiamo. È un grande inizio per la corona iberica, che organizzerà immediatamente una seconda spedizione in grande stile. È un grande inizio per la colonizzazione effettiva di quelle terre, con tutto ciò che di brutale verrà dietro le conquiste, i conquistadores per l'appunto. È un grande inizio per un'umanità che vede l'universo latino allargarsi ai danni di altri universi rimasti fino allora intonsi e isolati, ma è un grande inizio anche per noi appassionati, amici e cultori della storia medievale, giocché l'allargamento di orizzonti che questo evento nel bene e nel male produsse allora seguita a rappresentare uno spartiacque tra un prima e un dopo. E se è vero che, per citare le Goff, il Medioevo, raggiungerà senz'altro la rivoluzione francese, è anche vero però che il mondo da allora sarà sempre più globalizzato. Grazie, grazie per l'attenzione. Ebbè è affascinante, è affascinante. La cosa che non sapevo o alla quale non avevo mai prestato attenzione, ero convinto che il viaggio fosse durato un'eternità, probabilmente per chi l'ha fatto è stata comunque un'eternità, però detto in termini di giorni rapportato ai tempi moderni è poca cosa alla fine, se uno ci pensa. È vero, anche perché la sosta alle Canarie dura a lungo, per cui da quel 3 agosto poi si riparte fondamentalmente all'inizio settembre, per cui il viaggio dura poco più di un mese, possiamo dire così, ma un mese verso l'ignoto, un mese che instilla nei membri dell'equipaggio delle paure, forse anche paure ancestrali nei confronti di ciò che si sta compiendo verosimilmente per la prima volta, ecco. Ebbè, in effetti è così. Antonio, non so come ringraziarti, bisogna correre a comprare il libro assolutamente perché credo che ne valga davvero la pena. Ricordo il titolo che è 1492, diario del primo viaggio, appena pubblicato dalla terza, e di Antonio Musarra, che noi abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro grandissimo ospite. Io vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troverete tutte le nostre videopresentazioni, oltre a tutto il resto, e vi do appuntamento al prossimo incontro in videopresentazione. Grazie ancora, Antonio, e a presto. Grazie, grazie a tutti. All'entrata del Tempsklar